...tra poco. Nell'assist per il gol di Fecesin. Terzo gol in campionato. Vittoria del Brescia. Continua a regalare gol, vittoria e spettacolo. Il Pescara di Zeman subito in vantaggio con questo sinistro di Sansovini. Stop con il petto. Mancino in rete e 1-0 Pescara. Poi Immobile sbaglierà un calcio di rigore ma la Pescara vincerà ancora con Sansovini. Doppietta per lui questa volta con il piatto del piede destro. Pescara patta e Crotone 2-0. Bella partita a Grosseto tra Grosseto e Verona. Verona che va in vantaggio. Bel lavoro di Berrettoni sulla corsia di sinistra. Pallone messo in mezzo. Juanito. Il gol dell'argentino Juanito Gomez. Non basta però a Verona. Arriva il pareggio del solito Sforzini. Colpo di testa di Ferdinando Sforzini. Terzo gol in campionato. E poi proprio Sforzini subisce il fallo da Ceccarelli. Molto dubbio. In realtà dal dischetto Gaetano Caridi. Non sbaglia. Fince il Grosseto. 2-1. Altra rimonta quella della Regina che però va sotto sul campo del Gubbio. Bazzoffia e Letocco diventa un assist per Ettore Mendicino. Bellissimo il destro. Cercare di trovare il palo più lontano. È il gol del vantaggio. La Regina però non ci sta. E trova il pareggio nella ripresa con Campagnacci tutto solo in mezzo all'area di rigore. Un rigore in movimento. Ed è l'1-1. E poi inizia lo show di Fabio Ceravolo. Il primo tiro alla parata di Donnarumma. L'area è spinta ancora di Ceravolo per il gol del vantaggio. Secondo gol in campionato per Ceravolo. Non sarà l'unico. Arriverà anche il terzo su questa brutta uscita di Donnarumma. Lo supera Ceravolo. Mette dentro. E sigilla il 3-1 della Regina in trasferta. Del match anche tra Nocerina e Asqueli. Gran tifo sugli spalti. Rimane però deluso il pubblico di Nocera. Perché il gol decisivo è quello di Papavaigo. Ma la Nocerina è stato annullato. Un gol clamorosamente valido di Negro. Vince il Sassuolo contro il Cittadella. L'1-0 su questo clamoroso errore di Sansone. Arriva poi il tocco decisivo di Marchi. in posizione regolare. Sansone poi subisce questo fallo. E dal dischetto con il sinistro trasforma il gol del 2-0. A Bergamo l'Albinoleffe va in vantaggio presto. Il cross di Cristiano. Il colpo di testa di Andrea Cocco. Perfetto. Perfetta la girata. E vantaggio al Binoleffe. Arriva però il pareggio del Modena al 23. Il colpo di testa di Bernacci. Che poi ritrova Elia Pallone. Dopo il palo colpito. Ritorna il gol Bernacci. Gol che mancava dal 30 maggio del 2010. Ma poi arriva anche il gol decisivo dell'Albinoleffe. Ancora di Andrea Cocco. Quarto gol in quattro giornate. Vince l'Albinoleffe. 2-1. G hè! Gatoso dell'Albinoleffe. 3-1. Grazie!